Buonasera a tutti. 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 italiane sono coinvolte in questa filiera a vari livelli e attenzione non solo nello stadio finale della produzione. È anche importante il contributo italiano al settore siderurgico che come sapete oggi è al centro della nostra agenda di governo, proprio il caso dello stabilimento Ex Silva di Taranto. Ne abbiamo anche parlato nel corso dell'incontro bilaterale e ci siamo ripromessi, siccome in Germania in questo settore anche c'è una fiorente produzione, ci siamo ripromessi una cooperazione anche per cercare di confrontarci sulle soluzioni più avanzate dal punto di vista tecnologico e condividere quindi queste conoscenze anche in questo specifico settore. Come sapete in queste ore il governo sta lavorando per una soluzione che tenga in piedi e possa assicurare il soddisfacimento di differenti esigenze. Da un lato la tutela della salute dell'ambiente e dall'altro la tutela anche la salvaguardia dei livelli occupazionali e del lavoro. Ecco la sfida che attende il governo italiano su questo fronte, stiamo parlando della più grande acciaieria, del più importante complesso siderurgico in Europa, è quella di far marciare all'unisono valori come salute, ambiente, lavoro. Ecco perché abbiamo parlato e parlo di cantiere Taranto. Questa è una grande sfida che il governo raccoglie e cercheremo di esprimere il meglio per quanto riguarda l'efficacia dell'azione del sistema Italia. Al centro del nostro incontro poi ci sono degli importanti dossier, innanzitutto temi internazionali a partire dalla Libia. Stiamo lavorando attivamente perché il buon esito della conferenza di Berlino che mira a promuovere un rapido cessato il fuoco e la ripresa del processo politico possa disvelarsi a pieno e siamo assolutamente convinti su un coeso e sincero impegno della comunità internazionale per lavorare a questo risultato. Dobbiamo assicurare un processo politico perché, l'abbiamo sempre detto, l'opzione militare non può garantire nessuna soluzione sostenibile. Quindi sotto legge delle Nazioni Unite riteniamo fondamentale e profondere ogni sforzo e per questo parteciperemo attivamente con le massime, con le più buone intenzioni a questa conferenza, per contribuire a perseguire il comune prioritario obiettivo della stabilizzazione del Paese a beneficio del suo popolo e dell'intera regione. Parleremo anche di crisi siriana, la cui soluzione può essere raggiunta solo attraverso un credibile processo politico e affronteremo anche qui con responsabilità, attenzione, la situazione nel nord-est della Siria. È importante perseguire il cessato il fuoco e proseguire nella comune lotta al terrorismo. Comprendiamo le ragioni, le preoccupazioni, le premure per la sicurezza, ma sapete, conoscete la posizione del governo italiano? La Turchia deve svolgere con responsabilità il suo ruolo di membro della coalizione anti-Daesh e della Nato in modo da poter assicurare quella stabilizzazione che deve riguardare l'intera area regionale. A proposito poi di lotta al terrorismo, esprimo anche qui pubblicamente, ribadisco un pensiero di particolare attenzione, di particolare vicinanza, commossa vicinanza per i militari italiani che ieri sono stati feriti a Kirkuk in Iraq a seguito di un attentato che poco fa è stato rivendicato dall'Isis. Sono stati colpiti cinque militari italiani, tre sono in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Ecco, a loro auguriamo davvero una pronta guarigione. Infine il prossimo vertice della Nato a Londra a dicembre, all'inizio di dicembre, sarà un'opportunità per riannodare le fila del dialogo transatlantico di cui avvertiamo forte il bisogno. La Nato non deve perdere il suo ruolo di piattaforma politica e quindi dobbiamo muoverci con unità di intenti perché dobbiamo gestire efficacemente l'alleanza militare più potente e forse a mia memoria la più longeva della storia. È un coggetto che ho sottolineato spesso e che è utile a riaffermare. La Nato per noi resta un pilastro della politica internazionale. Benvenuta Angela. Presidente del Consiglio, caro Giuseppe, sono veramente molto lieta di essere qui, di aver potuto accogliere questo tuo invito a venire qui a Roma. È la mia prima visita qui a Roma effettivamente in occasione del tuo nuovo incarico di Presidente del Consiglio. Ci siamo comunque visti tanto spesso ultimamente, tu sei stato a Berlino e posso veramente sottolineare solamente che abbiamo uno stretto rapporto bilaterale sia a livello europeo che a livello mondiale e internazionale. Per questo un mio grazie di cuore e certamente dobbiamo affrontare e risolvere problemi spinosi. I rapporti bilaterali sono stretti ma ancora sono suscettibili a essere intensificati. Questo vale per i nostri governi che già cooperavamo strettamente in campo economico. Tu hai già fatto presente le obblighi reciproci e comunque le tensioni commerciali e internazionali influiscono negativamente sulle nostre economie. Poi hai fatto presente anche la forte integrazione tra le due industrie nazionali sia per l'automotive ma anche per l'industria nazionali sia biologica. Quindi dobbiamo scommettere su un ordinamento mondiale commerciale basato sulle regole e anche due nostri paesi ci adobliamo per questo obiettivo. Poi hai fatto presente le difficoltà che deve affrontare l'Italia in questo momento nel settore nazionali ma anche noi proprio in questo settore dobbiamo affrontare una situazione molto difficile quindi dobbiamo insieme lavorare per le future tecnologie, le tecnologie dell'avvenire, i nostri ministeri della tecnologia e dell'economia devono cooperare più strettamente. Certamente non sono cose da realizzare a breve termine in pochi mesi ma la Germania sta parlando su un'azione per quanto riguarda l'idrogeno e la futura importanza dell'idrogeno e questo è da vedere anche da inserire nel contesto della tutela dell'ambiente. Poi abbiamo il grosso compito da affrontare e cioè portare avanti l'Europa, garantire la sua competitività. L'Italia e la Germania lì cooperano strettamente. Noi certamente quanto riguarda questo processo doloroso della Brexit abbiamo deciso di configurare, di organizzare questo processo insieme a John Clunk e a Emmanuel Macron e noi anche in futuro ci avremo affinché i futuri rapporti euro-britannici rimangano stretti e caratterizzati da fiducia reciproca. Ancora c'è molto da fare, anche adesso l'accordo sulla Brexit praticamente è concluso. Mi fa molto piacere che condiviamo la stessa strategia rispetto ai Balcani occidentali, anche qui ci dobbiamo ancora da fare per portare avanti e soprattutto per aprire i negoziati con la Macedonia e l'Albania perché se lì si apre un vuoto, questo stesso vuoto sarà colmato da altri e questo non corrisponde al nostro interesse strategico europeo, tanto più che questi paesi dei Balcani occidentali spesso sono anche paesi membri della Nato e quindi noi anche in questo condiviamo una strategia atlantica in favore della Nato. La Commissione, la nuova Commissione inizierà presto la sua attività, abbiamo un nuovo Presidente della Commissione, abbiamo bisogno di organizzare questo quadro finanziario plurianale, anche lì dobbiamo cooperarsi da me, anche se aspettano proprio in questo campo non pochi problemi, ma anche due noi siamo d'accordo con l'agenda strategica della nuova Presidente della Commissione e speriamo che quanto prima questa Commissione possa dare avvio ai propri lavori. Poi abbiamo interessi comuni anche per quanto riguarda i rifugiati, le migrazioni, noi vogliamo combattere e lo abbiamo capito che dobbiamo combattere le cause di questi movimenti migratori e dei rifugiati e mi fa molto piacere che tu la prossima settimana sarai presente a Berlino in occasione della conferenza Compact with Africa. È molto importante aprire e offrire delle prospettive ai giovani africani soprattutto. Grazie, un grazie di cuore per l'impegno che l'Italia ha dimostrato, sta dimostrando in Libia, grazie anche per la vostra partecipazione al processo di Berlino, ma per garantire questo abbiamo bisogno soprattutto di un cesà del fuoco. Certamente nel corso di questa sera avremo modo di approfondire ancora questi discorsi sulla Libia, sulla Siria, poi dobbiamo preparare i vertici della NATO, 70 anni di NATO, una storia di successo, ma noi europei dobbiamo dimostrare ancora maggiormente che la NATO è anche nei nostri universi, quindi anche lì dobbiamo rafforzare il nostro impegno comune, congiunto. Io sono molto lieto che proprio in tempi difficili, complicati, con tanti problemi globali che poi influiscono sulle nostre situazioni nazionali, che abbia l'opportunità stasera per questo scambio di vettute e opinioni con te, è un luogo meraviglioso questa villa d'ore a figli, è proprio un luogo splendido, è superbole, grazie di cuore ancora caro Giuseppe. Paolo Valentino del Corriere della Sera, Frau Dr. Bundeskanzlerin, willkommen in Roma. Il suo ministro delle finanze Olaf Scholz recentemente ha presentato una proposta per una garanzia per i depositi bancari in Europa, una garanzia che deve valere poi per tutti i paesi membri dell'Unione europea, ma questo rispecchia la posizione ufficiale del suo governo intero, la proposta di Scholz. Cosa ne pensa? Anche per quanto riguarda le critiche rivolte lì soprattutto a parte del ministro dell'economia e delle finanze italiano, perché alla fine lui si è pronunciato in favore di una valutazione dei rischi dei titoli di Stato. Questa è una domanda rivolta anche al Presidente del Consiglio. Innanzitutto vorrei dire questo, l'intero governo federale è del parere che quanto riguarda l'unione dei mercati di capitale come l'unione bancaria devono essere portati avanti, perché per garantire la stabilità degli euro questa è una cosa fondamentale. Vorrei ripetere qui una frase, anche se Olaf Scholz ne ha parlato, questa garanzia per i depositi ha di grande significato per dimostrare la nostra forza come mercato interno per poter sviluppare questa forza. E quindi io sono assolutamente in favore di questo, ma sono anche per il perfezionamento dell'unione bancaria. Il nostro Ministro delle Finanze ha presentato una sua proposta molto schetta, molto chiara, molto e così voleva dare anche un input, una nuova spinta, un nuovo impulso appunto a questa unione bancaria. Noi parleremo ancora dei particolari e concerteremo ancora i particolari in seno al governo federale. Noi abbiamo capito che questa è una cosa perché dobbiamo procedere. Certo il rischio della valutazione dei titoli stati è sempre stato un argomento molto conteso, ma io sono sicuro che troveremo alla fine una posizione tedesca congiunta, se poi essa rispecchia poi anche le posizioni degli altri paesi. Comunque questa unione bancaria deve fare progressi, deve andare avanti. Io adesso mi sono informata, aggiornata anche sullo sviluppo dei rischi nel settore bancario italiano e devo esprimere la mia soddisfazione. avete compiuto dei grossi e notevoli progressi anche in Italia, come questo discorso d'altro vale anche per altri paesi. Quindi dobbiamo ancora darci da fare, ci dobbiamo lavorare all'interno poi dell'unione bancaria e il tema della garanzia dei depositi comuni è certamente un tema spinosi che va affrontato passo per passo, ma per quanto riguarda l'obiettivo di per sé, l'obiettivo è complessivo, noi siamo sicuramente d'accordo e ne vediamo la necessità. Ma non aggiungo adesso nulla alle valutazioni già espresse dal nostro ministro dell'economia su questa che è stata una proposta che mi pare di capire che la stessa cancelliera Merkel ha valutato una proposta molto schietta molto del suo ministro. Io faccio solo un'osservazione complessiva. L'Italia è fautrice sicuramente di un rafforzamento dell'Unione bancaria e monetaria e quella secondo me è la direzione di marcia, ma come anche ci ha vincolato il Parlamento, e l'ho anche chiarito nel corso di incontri avuti al Consiglio europeo, noi riteniamo che questo sistema debba rafforzarsi in tutte le sue componenti in modo equilibrato. Quindi lo stesso Parlamento mi ha vincolato, ha vincolato il Governo a procedere secondo un approccio, una logica di pacchetto, quindi SM, bilancio dell'Eurozona, EDIS. E su questo voglio dire che l'Italia continuerà sempre a mantenere questo punto. Quindi in particolare poi sull'EDIS, ripeto, noi non temiamo assolutamente scossoni per il nostro sistema, lo sviluppo dei rischi del nostro sistema, in particolare il bancario ha compiuto negli ultimi anni dei grandi progressi per quelli che erano alcuni profili critici del passato. Siamo abbastanza quindi sereni nell'affrontare questa discussione, ma riteniamo che questa discussione debba procedere in modo equilibrato, in tutti i suoi aspetti e anche complessivamente. Udo Gumpel RTL, la prima domanda alla cancelliera federale, la prima domanda a lei, per quanto riguarda la questione migratoria all'accordo di Malta. Premetto, lei ha conoscenza che questo accordo italo-lipico, tanto coronato dal successo, implica che anche le milizie libiche di Albigia, che poi sono le stesse a organizzare i flussi migratori, alla fine hanno firmato anche loro questo accordo, quindi fanno parte di questo accordo. Lei ha conoscenza di questo. Ma come andrà avanti adesso questo processo di Malta? Il ministro tedesco dell'interno adesso ha detto che c'è un accordo di una coalizione di chi è veramente disposto a dare il suo contributo. Quindi il soccorso marittimo nel Mediterraneo non riguarda poi solo l'Italia ma la Malta, Grecia e la Spagna. Quindi lei sarebbe d'accordo se questo soccorso marittimo di nuovo fosse gestito dagli Stati e non dagli NGO? Lei ha detto volgalmente Conte 2, c'era anche Conte 1, un governo di una composizione diversa. Come si sente oggi a differenza del precedente governo che anche lei ha guidato, preso in Europa, sostenuto anche con i desideri anche di avere comprensione e collaborazione all'interno della maggioranza degli altri paesi in Europa. Grazie. Bene, io voglio dire questo. Innanzitutto sono molto lieta che la nuova Presidente della Commissione per la propria agenda ha già stabilito chiaramente che si occuperà fortemente della questione dell'immigrazione, di una divisione equa dei compiti, una riparazione equa dei compiti. Per questo richiedo ancora un po' di tempo. Perciò io trovo giusto che i rappresentanti francesi, maltesi, italiani e tedeschi a Malta hanno compiuto un primo passo in questa direzione invitando poi altri paesi dell'UE per scostarsi da questa procedura ad hoc, da questo meccanismo di garantire una soluzione umanitaria, almeno tra i paesi volonterosi. Io credo che questo sia stato un messaggio positivo quello che è stato lanciato perché non possiamo agire di volta in volta ma ancora resta molto da fare per giungere veramente a una giusta e equa ripartizione dei compiti europei. Io sono del parere che i paesi ribieraschi del Mediterraneo quindi che difendono i nostri confini esterni, i confini esterni dicendo che non li possiamo abbandonare questi paesi ribieraschi del Mediterraneo e quindi dobbiamo parlare di questa questione con loro. Però dobbiamo combattere ugualmente anche le cause delle migrazioni, delle fughe di queste persone. Quindi la cooperazione con la Guardia Costiera libica è di grande importanza ma ne parliamo anche con il commissario dell'ONU per i rifugiati e per gli ONGO e dobbiamo garantire standard ragionemili che effettivamente non sussistono in tutta la Libia, questo è giusto quello che ha detto, però dobbiamo garantire che la situazione in loco venga migliorata perché la gente non deve esporsi a questi rischi di attraversamento del Mediterraneo. Quindi ancora rimane un gran lavoro da fare e tra l'altro questa conferenza stessa con i paesi africani che avremo la prossima settimana a Berlino e quindi la Germania insieme all'Italia che lavora per una soluzione favorente di una soluzione politica è un compito arduo e spinoso ma è una necessità, è un'esigenza assoluta e quindi noi dobbiamo perfezionare le cose in questa ragione nell'interesse della gente interessata, delle persone che sono colpite da questo fenomeno. Ma io voglio ringraziare pubblicamente il governo tedesco e la Germania perché in materia di migrazioni non ha fatto mancare il suo aiuto all'Italia. Devo dire che la Germania è un paese in cui se parliamo di sensibilità per il quadro complessivo dei problemi e se parliamo di sensibilità per quanto riguarda l'esigenza della redistribuzione è un paese in prima linea. Quindi questo va riconosciuto ed ha un ruolo sicuramente propositivo di promozione anche per quanto riguarda l'accordo di Malta che lei ha menzionato. Quindi l'Italia e la Germania in questo momento sono tre paesi insieme ad altri ma ci aspettiamo che siano molti di più che stanno lavorando più convintamente perché questo accordo di Malta possa essere condiviso dal più alto numero di paesi possibili e direi dagli interi stati membri dell'Unione Europea perché quello è l'obiettivo finale. Detto questo lei mi ha chiesto anche del nuovo contesto, del nuovo governo, del nuovo esecutivo e mi ha chiesto anche il tipo di accoglienza che ha avuto in Europa. Allora fermo restando che se avrete la bontà di comparare i discorsi e le posizioni che il sottoscritto come Presidente del Consiglio ha assunto nel precedente esecutivo e le posizioni e le idee che esprimo e l'indirizzo che cerco di perseguire in questo nuovo esecutivo non vedrete differenze. Anche sul piano ad esempio dell'approccio al tema delle immigrazioni dove ho sempre ritenuto che si dovesse partire dal rispetto dei diritti fondamentali di queste persone che soffrono, che cadono preda dei traffici illeciti e dei trafficanti. Detto questo c'è sicuramente il mio è stato sempre un approccio critico ma sempre costruttivo. Io l'ho sempre detto l'Europa sta attraversando anche un momento difficile. La Casa Comune Europea sta rivelando alcune criticità ma è normale nel corso della sua storia, ci sono cicli, vari cicli e io credo che coloro che vogliono bene e vogliono perseguire gli ideali europei debbano cercare di interpretare il loro tempo anche in termini critici in modo da stimolare un rafforzamento della Casa Europea e renderla ancora più solida e in grado di proteggere contro le insidie e le sfide che sono notevoli. Quindi dire che in Europa va tutto bene secondo me è sbagliato. Chi dice questo non vuole bene all'Europa. Ecco perché l'approccio critico. Per quanto riguarda poi il contesto politico più complessivo devo dire che il mio approccio critico ma comunque costruttivo oggi è più omogeneamente sostenuto dalle forze politiche attuali che sostengono la maggioranza attuale in Italia. E sicuramente questo, il fatto che ci sia una maggiore omogeneità in questo approccio, ci sia una più chiara apertura al dialogo costruttivo per quanto critico, questo è un fatto che mi agevola molto. In Europa è sicuramente noto la maggior facilità di dialogare e di ritrovarsi a confrontarsi con gli altri stati e con gli altri governi.